È un paese dove una comunità in grossa difficoltà per la perdita del principale lavoro, un miniere, vive di sussidi, di disoccupazioni vari e si cerca un modo per riuscire a essere una comunità viva. Il clima è quello di qualunque paese dove i suoi abitanti non avendo lavoro non hanno niente da fare tutto il giorno. La nostra vita svolge in una maniera più ripetitiva che sia immaginabile tra il ritiro del nostro sussidio, chiacchierate, bevute di aianico, di cruschi. L'arrivo del medico o la prospettiva quindi di un futuro li rianima. Tutti i paesani cominciano a mobilitarsi perché hanno un obiettivo. Abbiamo un mese per convincere il dottore a firmare un contratto a tempo prolungato. Dobbiamo far innamorare Gianluca Terragni di Pietra Mezzana!